...di carri con il senno di voi e questo è il problema della Natale. Ma almeno il nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti, per cui chiunque può dire e anche tutto pensare, spesso anche pensare, e dire ed esprimere loro il suo parere senza nessun problema. Poi quello che conta per me è sempre un risultato sul campo, è sempre una prestazione, infatti non sempre tutte le prestazioni si centrano al 100%, non sempre i risultati sono quelli che vorremmo. Però io vedo in queste quattro partite, una volta abbiamo recuperato, una volta siamo stati recuperati, un'altra volta a Cagliari abbiamo spiorato i risultati, col Palermo, cosa dobbiamo dire della partita col Palermo? Allora dico, beh insomma, io la vedo positiva, poi dopo ognuno è libero di esprimere il tuo pensiero perché non voglio obbligare nessuno a pensare come ha pensato io, assolutamente. Grazie, prego.